La questione del cognome sicuramente non è così superata anche qui in Italia e abbiamo potuto anche constatarlo nelle ultime elezioni politiche dove c'è stata una campagna elettorale soprattutto da parte delle opposizioni tutta incentrata sul pericolo del ritorno al fascismo quindi con un eventuale governo di centrodestra. Ovviamente sono spauracchi assolutamente inutili perché è ovvio che non c'è nessun rischio in questo senso perché il fascismo è un fenomeno che viene racchiuso in un determinato periodo storico e che non tornerà più. Come non tornerà più? Penso, immagino, il regime di Franco in Spagna. Sì, è una persona che ha delle idee anche molto aperte, molto meno spicolose su molti temi rispetto al mio partito in particolar modo riguardo ai diritti civili, diciamo che ho una visione molto più open-minded rispetto ai miei colleghi di partito e questo perché sono cresciuta in una famiglia di artisti sono figlia di Romano Mussolini che è stato un jazzista riconosciuto, apprezzato a livello internazionale quindi sono stata cresciuta nei valori della bontà, della tolleranza, della lotta contro qualsiasi tipo di pregiudizio e sono stata io sempre vittima di pregiudizio ovviamente per il cognome che porto quindi capisco perfettamente cosa significhi essere o sentirsi discriminati ma non credo che il nostro paese sia pronto per questo credo che ancora ci sia un'ombra di pregiudizio quando io sono stata eletta, sono risultata la più eletta a Roma mi hanno cercato tutte le maggiori testate nazionali perché ovviamente questo numero importante di voti ha destato ovviamente notizia però diciamo che ho seguito quelle che sono state le indicazioni del mio partito che per tutelarmi, per evitare delle strumentalizzazioni mi ha consigliato di evitare di rispondere o andare in televisione ma io personalmente invece ritengo che questo sia stato uno sbaglio perché se invece mi fosse stato permesso di andare in televisione probabilmente forse avremmo sdoganato molto prima il problema del mio cognome perché conoscendo la persona avrebbero capito che probabilmente io sono una garanzia all'interno del partito su tanti temi posso dirti che io personalmente non ho mai fatto il saluto romano non mi sognerei mai di farlo mio padre diciamo provava un certo imbarazzo quando qualcuno magari sapendo che era il figlio del duce gli faceva il saluto romano mio padre diciamo che si scherniva di fronte a questi gesti e io sono come lui quindi diciamo che non sono la persona più indicata per fare questo tipo di domande e ti ripeto che diciamo che questo cognome che potrebbe essere un problema ancora per qualcuno magari anche all'interno del mio partito perché si teme che possa essere accostato a qualche tipo di estremismo invece diciamo che ripeto io sono la garanzia per questo partito Giorgia Meloni è diciamo un esponente potremmo dire del moderno esponente del partito conservatore quindi dovremo finalmente essere scevri da queste ideologie e tornare a pensare alla contrapposizione democratica dove ci sono i democratici e i progressisti però diciamo giudicando quindi l'operato di queste coalizioni in base ai programmi e non in base a nostalgie di un passato che è ormai veramente molto molto lontano un passato che va ricordato e va studiato perché io sono assolutamente contro la cancel culture e credo che ovviamente sia importantissimo studiare il nostro passato per meglio affrontare il presente e il futuro e soprattutto evitare di commettere gli stessi errori eventualmente che si sono commessi nel passato Io francamente mi interesso delle vicende del mio paese come dico scherzando il mio collaboratore si ride quando lo dico io sono un umile, mi considero un umile consigliere comunale quindi posso esprimermi sulle vicende nazionali però per quanto riguarda le vicende internazionali io personalmente diciamo che già rispetto al mio partito ho alcune idee insomma molto più aperte rispetto a molti temi quindi credo che mi potrei trovare male non ha partito insomma molto radicato come Vox però diciamo che sarà la democrazia sarà il popolo a decidere quale sarà la compagine in Spagna come in qualsiasi altro paese che assumerà il governo e poi credo che nel momento che assumerà questo governo magari tanti timori si potranno fugare come si stanno fugando i timori che succedesse l'apocalisse e la catastrofe con un governo di centrodestra quando invece nulla di tutto questo sta accadendo perché Giorgia Meloni sta dimostrando con il suo lavoro, la sua serietà la sua puntigliosità la sua visione, il suo agume politico di essere un ottimo premier di tutelare l'interesse di tutti gli italiani quindi ovviamente anche di quella parte che non l'ha votata perché lei è il premier di tutti gli italiani quindi